Avvicinare i pazienti e i professionisti del pronto soccorso creando occasioni di incontro al di fuori degli ospedali per raccontare le dinamiche dell'emergenza sanitaria e ascoltare le esigenze dei cittadini. Obiettivo dell'iniziativa che si è svolta alla Galleria Civica di Termoli è organizzata dal personale del reparto di emergenza dell'ospedale Santimoteo e del servizio 118. Siamo quelli che intervengono nell'immediatezza. A me piace sottolineare una cosa, come nel tempo insieme si sia creato un feeling indissolubile a questo punto con i colleghi del pronto soccorso proprio per creare questa catena del soccorso ed è anche grazie a queste iniziative che divulghiamo sempre di più il concetto di un'integrazione del soccorso. L'evento rientra nella seconda settimana nazionale del pronto soccorso promossa dalla Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. Il personale ha mostrato alcune manovre salvavita per i bambini e gli adulti coinvolgendo i visitatori in varie attività anche con un questionario sull'utilizzo del pronto soccorso. Un reparto, quello di Termoli, che si prepara a fronteggiare l'estate quando le presenze sul territorio tra villeggianti e turisti arrivano a triplicare. Il riflesso sul pronto soccorso è enorme perché per noi il lavoro diventa molto più serio, molto più grave anche perché comunque la patologia traumatica, quella che prevale quando c'è molta gente, quando tutti sono in vacanza, poi in un posto di mare naturalmente anche problematiche che riguardano eventuali annegamenti e anche traumi stradali. Per cui per noi è importantissimo avere risorse umane nuove e personale, anche perché il personale che lavora si assenta per le ferie estive e quindi l'organizzazione va ricreata di nuovo in base anche all'aumento della popolazione. Novità del 2015, anche la collaborazione con il Tribunale per i diritti del malato di cittadinanza attiva, un impegno condiviso per un sistema sanitario pubblico funzionale ed efficiente. Novità del 2015, anche la collaborazione con il Tribunale per i diritti del malato di cittadinanza